spazio e interviste le interviste di diva e fan con il personaggio del giorno a cura di guendalina ferro un buongiorno a tutti da guendalina ferro sono in trasferta alla biblioteca qui di porto viro in compagnia di vincenzo mancin uno dei free bikers di porto viro ovvero uno dei c uno dei quattro ciclo viaggiatori giusto che ci spiega delta chiama delta questa nuova iniziativa perché voi ogni anno fate viaggi non dico solo all'estero ma anche in italia insomma come amanti della due ruote ma facciamo capire i nostri radio ascoltatori di questa iniziativa nuova che ha preso il via ufficialmente oggi con questa bella conferenza stampa vincenzo delta chiama delta si vietnam è il primo è il primo paese che facciamo in oriente ci siamo sempre diciamo prima cimentati conosciuti all'europa la russia sud america l'ultimo la california e l'oregon ma in oriente non vi siete mai è stato una cosa casuale così con le conoscenze ma guardate che vietnam non è più quello di una volta è una e così ci siamo in curiosità avventurati come fate ogni anno insomma ma oggi in conferenza stampa non c'eravate solo voi c'era anche c'erano anche i rappresentanti di questa associazione italia al vietnam giusto che ho visto insomma si è stata la associazione che a noi vi dà un supporto insomma che ci ha diciamo aperto le porte del vietnam vi ha indirizzato come fare e oggi avete fatto una diretta proprio con istituto superiore scuola una scuola insomma l'università l'università di a noi che sarebbe la capitale del vietnam del vietnam porta al nord e la capitale politica diciamo dove c'è il parlamento c'è il governo ci sono insomma i vari musei della rivoluzione dove dicono che bisogna andarci insomma ecco quindi noi sicuramente fa parte della tappa insomma che voi farete questo vostro nuovo viaggio però cosa è venuto fuori da questa da questo collegamento via skype e noi cosa vuoi non facciamo solo bici anche se questo è il nostro mezzo principale per visitare questi paesi perché con la bici hai la facoltà di sentire i profumi di vedere cosa ti gira intorno di parlare anche con le persone tutto ma costruiamo i viaggi per tempo abbiamo pensato di tramite appunto l'associazione italia vietnam di metterci in contatto con l'università di a noi perché perché insegnano hanno due corsi di italiano quindi su ci sarà un motivo anche perché l'ho capito io da prima c'è stato un momento di chi ha detto che una delle guide più turistiche più pagate è proprio quella che parla in italiano sì 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 era un meno remunerativa nel vero senso della parola quindi detto da un docente universitario vuol dire che c'è richiesta oltre ad essere una posizione prestigiosa per chi ha questo ruolo insomma quindi voi praticamente voi cicloviaggiatori voi quattro siete un po' ambasciatori anche a livello culturale quindi un po' passione per avventurarvi in questa terra sconosciuta orientale per la prima volta ma anche ammasciatori di quella che è la cultura porto viro vietnam possiamo dirlo sì sì infatti questo nome delta chiama delta è perché il vietnam noi lo conosciamo soprattutto per il delta del mekong dove ci sono state quelle quelle battaglie furiose insomma degli nostri anni nel 78 negli anni 70 insomma abbiamo vissuto tutta quella fase e simpatizzavamo allora per quei movimenti che dall'america vincenzo dobbiamo mandare un attimo a pausa musicale ma resta qui tra pochissimo rieccoci di nuovo qui in diretta alla biblioteca di porto viro sempre sono sempre in compagnia di vincenzo mancini e uno dei cicloviaggiatori dei free bikers del gruppo insomma di avventurieri che sulle due ruote non solo si accontentano di transitare per avventure estere chiamiamole così ma per la prima volta in oriente quindi in vietnam e anche come ambasciatori a livello culturale infatti nella giornata di oggi c'è stato questo collegamento con i rappresentanti degli istituti di porto viro superiori e professionali quindi con la daniela boscolo la vicepreside insomma dell'istituto turistico e con giovanni ammidei che è il direttore responsabile di eneip il quale ha proprio lanciato vero vincenzo la proposta di lanciare dei piatti culinari chiaramente perché si sa che in italia si mangia bene con quel di vietnam quando sarete la vero come sarà questo sì questo collegamento una delle cose che ci incuriosisce sarà anche il mangiare insomma tu sai che la si dice mangiano le cavalette le friggono per strada tutto questo questi piatti che fanno piatti diciamo che cucinano lungo le strade lunghi mercati insomma ecco noi abbiamo pensato che con i prodotti che anche loro delta chiama delta quindi loro hanno il riso hanno il pesce come noi mostreremo insieme con i ragazzi anzi saranno i ragazzi stessi che frequentano il corso di ristorazione presso le naip a spiegare come cucinano e come fanno questi piatti sia del risotto il nostro tipico insomma risotto con i o con l'altro pesce o è il nostro pesce il nostro radicchio insomma ecco loro presenteranno ai loro coetanei di annoi dell'università come confezionare un piatto italiano e non è cosa da poco insomma li prendete per il palato andrete la in bicicletta e li prenderete per il palato attraverso questo collegamento con la scuola di portovira si 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 e sarà sicuramente una cosa si come 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 hai sentito dalla conferenza stampa loro sanno che noi italiani insomma col turismo col palato con il mangiare siamo artisti e dai questa non ci ha fatto toccare nessuno nel senso della parola quindi ci ha tenuto a dire a mi dei che ci sarà lo chef che insegna ristorazione a seguire questa cosa quindi presenteremo proprio le nostre cose del delta insomma certo ma oltre a questo oltre ad essere ambasciatori ripeto a livello culturale vincenzo il vostro viaggio come sarà sempre a tappe giusto entriamo si si entriamo un po' su quello che è su quelle che sono le difficoltà su un paese che non conosci e che non che pensi che sia invece ci hanno detto che le strade quindi lungo la costa il wifi c'è ovunque si sono si sono impegnati su questo quindi noi abbiamo strutturato il viaggio così arriveremo da noi verso il 21 di febbraio di febbraio che è appunto ripetiamo la capitale del vietnam del vietnam la capitale politica quindi staremo lì quattro giorni perché con l'università si fanno questi programmi poi questi ragazzi che frequentano l'università di indirizzo italiano ci porteranno loro in giro ci faranno da guida come no? quindi siamo seguiti è una nostra richiesta che abbiamo fatto in questi quattro giorni quindi sono pieni per la visitazione per fare queste dirette via Skype con Porto Viro eh la faremo anche noi perché voglio dire ok il 21 febbraio però c'è tutta una serie di preparativi di cose entusiasmanti perché insomma nuove nello stesso tempo anche di spessore no? abbiamo già da quello che abbiamo messo su Facebook già abbiamo visto che tanti sono interessati a scoprire insieme a noi perché noi lungo questo percorso esatto sarete accompagnati lungo questo percorso wifi permettendo chiaramente sì sì no ma c'è questa vostra nuova avventura che è la numero? oh numero non lo so ma è dal 2003 che esiriamo quindi ogni anno un viaggio avventuroso insomma il 2003 insomma che è il 16esimo viaggio adesso non mi ricordo più Vincenzo no dal fazzoletto perché noi tu hai già capito che io ti ricontatterò in qualche maniera faremo per dare informazioni ai nostri radioascoltatori di questo insomma vostro nuovo viaggio avventuroso e purtroppo il nostro tempo la verità è terminato però ci ritorniamo insomma sì ci sarà modo di ritornarsi ok auguriamo una buona giornata ai nostri radioascoltatori e poi ti dirò anche in bocca al lupo per i viaggi grazie grazie grazie